Il Trani International Festival continua a non deludere. Dopo Sergio Rubini, che con il suo reading di fame, di denaro, di passione, ha raccolto in piazza Dazi un numeroso pubblico, ieri è stata la volta del regista Marco Risi e dell'attore Luca Argentero a Trani per presentare il film Cia Cia Cia, l'ultimo lavoro cinematografico. Un thriller dalle atmosfere noir ambientato in una Roma cinica e decadente. Cia 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 è un thriller, è un film appassionante, divertente, che racconta una storia che seguiamo all'inizio e vogliamo sapere come va a finire e che racconta anche un po' del nostro paese, tanti guai, problemi, cose, però attraverso un film di genere. Quindi un thriller, un noir, spero, appassionante. Assediato dalle tante fan in delirio, l'attore piemontese Luca Argentero non si sottrae ai flash. Con piacere ed entusiasmo si lascia immortalare dall'obiettivo delle tantissime macchine fotografiche. Nel film Cia 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 interpreta Corso un investigatore, ex poliziotto, che indaga sul decesso apparentemente accidentale di un ragazzo. Corso è un investigatore privato, è un ex poliziotto, è uscito dalla polizia, che non si trova d'accordo su come vanno le cose. È un periodo in cui è facile scendere a facili compromessi, lui non lo fa e quindi si ritrova da solo, come spesso si ritrovano quelli che hanno le idee chiare. E inizia a investigare su due cadaveri apparentemente con nulla in comune l'una con l'altro e inizia a scoprire i fili che collegano i vari puntini, come ogni investigatore che si rispetti. Una giornata intensa quella vissuta ieri da Argentero, che avrebbe voluto avere a disposizione più tempo per conoscere e respirare l'aria internazionale di questo festival. Il programma mi sembra molto ricco, è bella l'accoglienza che ci hanno riservato, sono stati tutti estremamente gentili, mi sembra che il programma sia molto valido e quindi il mio personale è un in bocca al lupo, che sia un'iniziativa che vada avanti. Mi è sembrato di aver capito che hai visto anche uno spettacolo che è il Pixel Rosso. Sì, è stata un'esperienza bizzarra, mi ha fatto venire in mente qualche buona idea, è stata interessante per quello, sicuramente un'esperienza diversa. La giornata di Marco Risi e Luca Argentero si è conclusa con la partecipazione al Talk condotto da Donato Barile e prodotto dalla nostra emittente, in onda oggi alle 15 e in replica alle 23 su Telesveva. Ma gli appuntamenti con il teatro del Trani International Festival continuano anche oggi. Questa sera alle 21 e 15 presso il Castello Svevo andrà in scena Il Grande Inquisitore, l'attesissimo spettacolo con Bruce Mayers del regista Peter Brook, che porta in scena il capitolo più famoso del romanzo I Fratelli Karamazov di Dostoevsky, lo spettacolo in lingua inglese con sovratitoli in italiano. Alle 21 e 15 a Palazzo Beltrani si terrà la replica di Ragù, uno spettacolo che nasce alcuni anni fa come raccolta di tiritere, proverbi, storielle e personaggi, piccoli e grandi pezzi di realtà popolari di Bari e del barese Vito Signorile. Alle 23 invece sarà la volta della banda Osiris con Fuori Tempo. La bravura dei quattro componenti si mostra ogni volta sorprende nella capacità di eseguire brani anche molto complessi, da Beethoven al pop, in costante movimento mischiando un vastissimo repertorio in un processo costante e inarrestabile di assimilazione di proposizione.